ciao benvenuti un nuovo video allora oggi credo di avere qualche problema con biancaneve perché tra il colorito palido e il rossetto rosso oltretutto continuo a controllare perché ho paura che vada sui denti perché non sono più abituata a mettere i rossetti con il mascherino normalmente metto sempre solo le tinte labbra ma oggi ho voluto mettere un rossetto rosso che anche bello poi con anche il cerchietto biancaneve mood allora oltre questo vorrei parlarvi vorrei di questo mascara del libro che il fil strong volume e lunghezza eccolo qui allora dice di essere multiattivo volume lunghezza ed è basta vi dico il prezzo che 10 ml di palotto prezzo di listino 19 95 ma è un prezzo scontabile e lo si può trovare anche a 15 95 poi dipende ed è con le promozioni periodiche da catalogo 15 95 si trova oppure in negozio se voi potete andare in negozio ed è si trova anche con lo sconto del 30 del 40 quindi è facilmente scontabile dunque veniamo al prodotto volume e lunghezza allora bellissimo il pack a mio avviso perché è molto molto elegante nero opaco con la scritta rose gold stessa cosa per la scritta fil strong bello mi piace è un bel pack molto elegante veniamo all'applicatore che questo qui fatto quindi apple sidra che sono quelli classici che vanno a dare lunghezza che vanno a dare volume effettivamente le ciglia ne acchiappa tutte ma poi vedrete anche il test prima cosa che vi devo dire provatelo applicatelo non vi soddisfa la formula non vi da un risultato wow come pensavate un paio di applicazioni poi dopo che ha preso un pochino d'aria non tenetelo aperto per niente dopo che ha preso un po d'aria lasciatelo lì scordatevelo per qualche settimana due tre al massimo non dei mesi riprendetelo e vedete che la formula si è un pochino indurita solidificata un pochino non deve seccarsi un pochino e ha un risultato molto migliore a mio avviso ed io ho fatto così perché subito l'ho provato mi dicevo devo fare troppe passate per avere un risultato che mi soddisfi l'ho lasciato lì perché ne ho provati altri poi ho detto vabbè tutti ne parlano bene diamogli un'altra possibilità e la formula mi è piaciuta tanto quindi sono quelle di mascara che se prendono un attimino d'aria è meglio per loro allora fate decantare il mascara basta cavolate veniamo a lui allora volume e lunghezza allora effettivamente quante volte ho detto allora giuro che non lo dico più ha un colore bello nero fin delle prime passate si applica bene questo applicatore che non mi ricordo vi ho fatto vedere questo applicatore prende benissimo tutte le ciglia ed è un paio di passate a un risultato naturale ne potete fare di più non troppe perché ovviamente la formula essendosi un pochino arricchita indurita troppe passate inizierà ad avere peso sulle ciglia ed è una cosa che noi non vogliamo quattro passate tranquillamente le possiamo fare le ho testate io ed è non hanno problemi dunque per vedere come si comporta davvero questo mascara io direi di andare a vedere le clip devo passate inizierà quindi e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non perde neanche sotto, ecco ne ha perso una adesso, perché ho tirato. E niente, non mi fa impazzire, si sente che c'è il mascara, perché le ciglia sono belle corpose, ma non si è sgrattolato durante il giorno, anche se l'ho messo a dura prova. E quindi, ok, ora vediamo come si comporta con l'acqua, che però ricordo che non è un mascara waterproof, ma vediamo. Non è un mascara waterproof, ma sicuramente ne ho visti di peggio. Se è già asciugato, sì, basta non andare a toccare le ciglia quando sono bagnate, perché è un pochino ovviamente macchia, ma per il resto poi si riasciuga. E adesso, prova finale, vediamo come si comporta con lo struccaggio. Sto usando l'acqua micellare, questa se vi interessa, Sensitive Camomile di Yves Rocher, non mi fa impazzire, ma fa il suo lavoro, così. E si rimuove perfino. Bisogna starci un attimino a lavorare, ma non è un problema principalmente del mascara, ma dell'acqua micellare, che è molto delicata. Però guardate, si è rimosso, quindi non è il massimo, ma ci sta. E rieccoci, allora avete visto anche voi che si comporta davvero bene. Non ha questo volume e lunghezza esagerati, ma ha un risultato più che naturale. Quindi è un risultato naturale con una passata, più di una passata, due, tre, quattro, il massimo che ho testato io. Resta comunque bello, l'effetto è bello, si vede bene. Resta comunque naturale, quindi non da ciglia finte. Ed il colore è bello nero, bello intenso, resta intenso durante la giornata. E le ciglia restano in posa per tutta la giornata, senza creare problemi, senza creare grumi. Non si seccano, non si spezzano. E non creano quegli odiosissimi peluchini di colore che si spezza e va tutto sotto l'occhio. Non ha questo tipo di problema, quindi per questo super, super promosso. Oltretutto, ho fatto un solito test con l'acqua e vi ricordo che non è un mascara waterproof, ma retto tranquillamente a un po' d'acqua. Non ci possiamo fare il bagno in piscina. Ma chi va in piscina? Non ci possiamo fare il bagno nella nostra vasca o sotto la doccia. Però un qualche goccia d'acqua, una pioggia, una qualche lacrima, soprattutto con la primavera oppure col vento che ci fa lacrimare un attimo l'occhio, con la luce, non crea nessun tipo di problema. Si rimuove facilmente con un qualunque struccante apposito per il trucco, per gli occhi. Quindi un olio, un bifasico, un burro. No, vi consiglio il classico acqua micellare classica, perché dovesse stare lì tanto e a forza di fregare, massaggiare, spezzate e stressate le ciglia e non ha senso. Uno struccante apposito, un olio, un burro, un bifasico classico, un'acqua micellare apposita per il trucco dei occhi, il trucco waterproof, ce ne sono tante. Ed si strucca facilmente, non lascia residui, perfetto. A me è piaciuto tanto e io direi che ve lo posso tranquillamente consigliare. Effettivamente una volta che è stato lasciato lì, qualche settimana, una o due settimane, non esagerate ovviamente, non dimenticatevelo, ed ho trovato che la formula è molto migliorata. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto, se vi hai incuriosito. Io amo questo pack super elegante, io lo amo davvero, molto molto bello. E niente, io spero di aver fatto conoscere un prodotto interessante che mantiene le promesse a un prezzo onesto ed vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!